benissimo eh buongiorno benvenuti a tutti eh benvenuti a nome del Cespi e del CNR ehm a questo quarto incontro dedicato al trattato del Pirinale eh un un passaggio importante nelle relazioni tra i due paesi eh trattato che è stato ratificato prima dal Parlamento e ehm il cinque luglio anche al Senato quindi è pienamente eh parte della della legislazione italiana e eh e quindi eh entra in una fase di implementazione e questo ciclo appunto di incontri ehm per quarto aveva due obiettivi eh principali il primo era quello di far conoscere il trattato del Pirinale e i suoi contenuti e il secondo obiettivo era quello di incominciare a costruire insieme eh a esperti società civile università mondo ehm eh il mondo dei team tank eccetera in iniziare a costruire un dibattito intorno a quelli che potrebbero essere quelli che saranno i contenuti che poi eh si dovrà dare all'interno al trattato perché il trattato definisce un quadro complessivo all'interno del quale poi eh va vanno inseriti i programmi specifici e quindi abbiamo pensato di fare questo questo percorso eh su quattro tappe scegliendo quattro temi eh più significativi ehm rispetto a ai ai tanti contenuti del trattato abbiamo iniziato con la cooperazione trasfrontaliera eh siamo passati appunto alla Italia Francia nel nello scacchiera del Mediterraneo eh e poi abbiamo scelto un tema eh che è quello stato quello della tecnologia della difesa e oggi affrontiamo eh invece un altro tema eh importante e ampio su cui il trattato appunto si eh da eh dedica sostanzialmente due articoli che è quello delle relazioni culturali e del rapporto eh tra eh nel mondo universitario. Ecco ehm per entrare nel vivo di questo incontro ehm eh conclusione anche di questo ciclo do la parola a su eccellenza l'ambasciatore eh di Francia Christian Massé eh eh ringraziandolo intanto di essere qui con noi e di aver condiviso un po' questo questo percorso insieme. Prego ambasciatore grazie ancora. Grazie direttore eh sono molto lieto quindi di aprire con voi eh questo quarto ciclo che è un ciclo veramente importante che ha accompagnato eh appunto tutto il processo di ratifica del trattato del criminale e quindi avete dato un contributo molto importante per sapere di cosa si tratta e penso anche che per i parlamentari sia stato molto utile. Come l'ha ricordato quindi eh il trattato ormai ratificato da parte italiana è stato approvato dalla Camera e dal Senato e da noi questa settimana c'è stato anche un passo importante perché c'erano le eh do le le elezioni e quindi dopo abbiamo il primo consiglio questa settimana il primo consiglio dei ministri quindi con il il nuovo primo ministro il nuovo governo ha eh approvato il disegno di legge eh di ratifica quindi che passerà prima al Senato e quindi che sarà discusso in Senato questo questo mese quindi eh i tempi sono qui sono sono veloci e anche posso dire che nel frattempo le cooperazioni o tante cooperazioni che sono previste dal trattato si 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 stanno si stanno muovendo quindi c'è una dinamica molto positiva e quindi questo ciclo di incontro come l'ho detto è è stato eh molto 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 utile e ringrazio molto il direttore Salerno quindi di di ehm aver accettato quindi di eh collaborare eh con questo specifico eh incontro e anche la la dottoressa ermellino e tutti gli esponenti di altissimo livello che 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 sono qui sulle nostre su nos ecran e darò un saluto mi lo permetterete eh un po' particolare a Christophe Musitelli che adesso lavora al ministro degli esteri a Parigi su tutta la politica culturale ma che è stato anche consigliere culturale molto con di grande talento qui a qui a qui a Roma eh noi eh in realtà Italia e Francia siamo due grandi potenze culturali quindi siamo veramente fra le cinque fra i cinque o sei paesi veramente riconosciuti come avendo una una cultura un mondo universitario che abbia veramente eh un impatto un impatto un impatto globale per di più eh abbiamo una grandissima ehm tanti tanti già tanti scambi perché se guardiamo bene eh siamo l'uno per l'altro il primo e o il secondo partner nel campo eh culturale lato senso si vede sulle tradizioni e sulle traduzioni sul cinema ma anche ovviamente si vede sull'università con i quattromila accordi eh che che abbiamo e adesso lo sviluppo delle università europee di cui il cuore franco italiano è così importante per quasi venti di queste università europee quindi una è una realtà molto forte perché per di più siamo eredi di una cultura comune quindi questo ci dà tanta forza ma in realtà questa forza eh non utilizziamo tutta e quindi il potenziale è al di sotto di quello che possiamo che che possiamo fare ed è per quello che abbiamo il trattato del curinale che eh prevede quindi questi meccanismi importanti di consultazione a livello politico per la cultura ma anche particolarmente questo è molto importante per università e ricerca insieme e con particolare questi incontri biennali e perché abbiamo una cooperazione molto fitta ma in realtà ci ci vuole un po' di orientamento per perché sia ancora più utile e che abbia anche più eh impatto a livello internazionale e quindi queste forze che abbiamo questa eh tradizione di scambi che abbiamo li dobbiamo coniugare per la conservazione del patrimonio e questo vuol dire anche formazione mestieri d'arte anche protezione all'estero con tutte le minacce che sono con le guerre eccetera sul patrimonio questo vuol dire sostegno creazione e in particolare sviluppare le nostre industrie ehm di eh creative questo è assolutamente essenziale perché rappresentano in realtà una grande parte della nostra ricchezza nazionale e i contenuti sono la nostro della nostra ricchezza e quindi eh eh questo eh particolarmente eh col mondo digitale dove c'è il rischio che il valore dei contenuti passi alle piattaforme e quindi è molto importante avere un quadro e e Italia e Francia insieme questo e sul diritto d'autore eccetera tanti altri temi è molto importante che siamo veramente uniti perché ci sia a livello europea eh europeo una 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 politica che che difendi appunto le nostre culture e le nostre ricchezze eh culturali ehm altro altro tema ovviamente sono gli scambi cioè veramente fare in modo che ci siano eh più percorsi comuni italo-francesi Italia, Francia, Europa questo è questa è una parte importante che dobbiamo sviluppare in questo momento stiamo avviando un progetto esemplare che si chiama il nuovo che è la circolazione di giovani artisti durante meno di trent'anni nelle residenze italiane e francese e con uno scopo europeo eh questo è un esempio ma un esempio molto molto importante e voglio dire che con un nuovo Grand Tour con tutti i progetti che abbiamo in vista eh Italia e Francia saranno veramente alla all'avanguardia per quanto riguarda la cultura e tra questi e questo mi rivolgo a Massimo Braille uno dei punti di appuntamenti molto importanti sarà la il salone del libro a Parigi l'anno prossimo eh per il quale l'Italia sarà il l'invite donna quindi è una stagione bellissima che abbiamo davanti se siamo capaci quindi di cogliere tutte le opportunità e quindi vi ringrazio molto di questo incontro che sono sicuro darà tante idee e tanta energia grazie 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 mille ambasciatore ehm come per il primo incontro anche anche oggi eh abbiamo ehm condiviso questa questa esperienza con il CNR in particolar modo con l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e le Autonomie ehm quindi abbiamo aperto il ciclo e lo chiudiamo insieme eh grazie mille e mh e darei la parola ehm a dottor Salerno eh direttore prego grazie eh direttore eh ringrazio il CESPI per questa iniziativa per la volontà di organizzare insieme eh anche questo incontro eh io qui rappresento un istituto del Consiglio nazionale delle ricerche e eh devo posso subito portare una testimonianza concreta dello stretto rapporto eh tra la cultura italiana e quella francese è dimostrata proprio dal fatto che il mio ente di ricerca eh sta avviando un importante piano di riorganizzazione e di rilancio questo piano prevede un comitato strategico composto da cinque personalità per seguire, guidare e indirizzare il rilancio del nostro Consiglio Nazionale delle ricerche e una di queste cinque persone è il presidente il dottor Antoine Petit del eh CNRS quindi questo dimostra in modo assolutamente chiaro ed evidente quali sono i rapporti stretti tra il mondo della cultura e della ricerca italiano e francese l'Italia sta avviando un processo di riforma e riorganizzazione del suo più importante ente pubblico di ricerca e lo fa proprio eh affiancandosi eh con il CNRS. Eh gli aspetti della cultura nel trattato con il Quirinale sono aspetti centrali, ben due articoli del trattato, l'articolo otto che riguarda in modo specifico i sistemi della istruzione, della formazione e della ricerca collegato con l'innovazione che è l'articolo nove che è dedicato alla cultura, la gioventù e alla società eh civile eh sono appunto dedicati alla necessità di eh produrre, di promuovere, di sollecitare, di facilitare eh una cooperazione rafforzata sempre più stretta, proficua ed efficiente fra la Francia e l'Italia. Io voglio eh soltanto segnalare l'importanza di questo incontro per incominciare a ragionare su quali potrebbero essere i passi concreti, questi articoli del trattato si parla appunto di non solo eh facilitare ma anche di dare un seguito operativo a questa attività di collaborazione sempre più stretta sul versante della cultura e che per esempio riguarda il tema della valorizzazione e protezione del patrimonio culturale che sia per l'Italia che per la Francia sono aspetti fondamentali considerata la vastità e l'importanza dei nostri patrimoni culturali e quindi dare un seguito concreto, verificare, incominciare a tracciare delle linee di indirizzo su quali possono essere questi seguiti e ricordo soltanto che l'Italia e la Francia hanno stipulato sin dal millenovecento quarantanove un accordo di eh cooperazione culturale che quindi ha una lunga tradizione e nel trattato del Quirinale si prevede per l'appunto un rafforzamento anche degli strumenti previsti da questo accordo. Quindi eh noi come CNR, come SIRFA eh siamo estremamente attenti a questi aspetti e quindi credo che eh gli autorevolissimi invitati a questo incontro potranno fornire senz'altro un contributo utile ad un'analisi e riflessione comune su queste prospettive di eh più ampia e stretta collaborazione. Grazie. Grazie. Grazie mille Giulio eh mi inserisco anch'io su questo eh su questa introduzione ehm proprio per eh così esplicitare un po' gli obiettivi che ci siamo dati in questo incontro invitando gli autorevoli esponenti che 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 sono con noi eh l'idea era proprio un po' quella di fare il punto su quella che è la collaborazione eh Italia-Francia ehm rispetto a a i temi eh dal mondo universitario al mondo della cultura al tema dei giovani eccetera e dall'altro come diceva giustamente Giulio individuare quelli che potesse possono essere gli spazi eh eh di eh rafforzamento e le indicazioni eh per individuare quelle che possono essere delle eh linee di azione eh future. Ehm ricordando sempre questo ehm il eh il il trattato è molto è molto esplicite eh e contiene un orizzonte che è quello europeo no? Anche rispetto ai temi della cultura, dell'istruzione, dell'università, si fa eh esplicito riferimento molto spesso a quella che è la dimensione europea fino addirittura alla 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 proposta no? Di un'università europea. Ehm l'idea è quella di creare, sostenere, promuovere uno un sentimento di appartenenza comune. Ecco eh questo un po' il la la l'orizzonte in cui in cui eh abbiamo pensato di muoverci per questo incontro mh nel nel trattato e negli articoli otto e nove ci sono delle parole chiave eh che che abbiamo cercato un po' di eh che hanno fatto un po' da 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 sfondo e ispirazione appunto il tempo tutto il tema della formazione e del mondo universitario, il tema dei giovani che non è solo appunto ehm formazione e una parola chiave che ritorna molto il tema della mobilità, no? Lo diceva anche l'ambasciatore e ehm rispetto alle iniziative già in corso e ai orizzonti. Ecco ehm così eh vorrei eh a questo punto dare la parola all'onorevole Alessander Medlino parlamentare, membro della commissione esteri della Camera dei Deputati ehm appunto l'orizzonte dei giovani ma non solo insomma questo sono sono elementi eh che emergono eh dal trattato del Quirinale quali le prospettive e le opportunità. Grazie dottor Frigeri, io innanzitutto ringrazio per avermi esteso l'invito perché abbiamo finalmente occasione di dare maggiore lustro a questo che è un trattato davvero importante in un periodo, in un momento, insomma anche in un quadro diciamo globale molto differente rispetto al passato e motivo per cui si tratta davvero eh di fare un lavoro di rinnovamento di uno spirito che forse in questo può trovare la giusta accelerazione da parte di dei nostri rispettivi paesi. Saluto l'ambasciatore Massè sempre presente e vicino a queste tematiche e anche gli illustri eh relatori che sono qui con me oggi. La promozione degli scambi culturali tra Italia e Francia così come è previsto appunto abbiamo detto prima dall'articolo nove del trattato del Quirinale si avvale rafforzandoli degli strumenti già previsti in ambito europeo. Sappiamo ad esempio che la commissione ha elaborato per il periodo duemiladiciannove duemilaventisette una strategia per la gioventù che si muove lungo tre direttrici mobilitare, collegare e responsabilizzare. Le tre azioni le troviamo declinate anche nel trattato del Quirinale perché in Europa come nei contesti sociali italiano e francese le giovani generazioni hanno innanzitutto bisogno di sviluppare una forte comprensione interculturale capace di instradarli verso una reale partecipazione alla vita democratica che sia aperta e condivisa per fare in modo infine che le loro idee proposte possano costruire una nuova massa critica la quale al contempo deve protendere al benessere collettivo praticando la tolleranza. In estrema sintesi la massa critica di cui parlo è il contributo che i giovani europei italiani e francesi devono essere in grado di dare ai grandi temi del futuro primo su tutti il cambiamento climatico che ad esempio ha tenuto banco anche all'ultimo vertice Nato di fine giugno quando il segretario generale dell'alleanza Stoltenberg ha detto che la Nato taglierà le emissioni inquinanti legate alle sue operazioni civili e militari del 45% entro il 2030 per arrivare alla neutralità climatica nel 2050. In ambito europeo con la conferenza sul futuro dell'Unione e in maniera circoscritta nel rapporto bilaterale Italia-Francia del Trattato del Quirinale i giovani possono effettivamente concorrere alla crescita globale rimanendo coerenti e rispettosi dei reciprochi culture. È proprio data l'estrema importanza del percorso di conoscenza tra culture che esso non può prescindere dalla preliminare individuazione dei comuni valori. Un lavoro che se ridotto al rapporto tra Italia e Francia potrebbe liberarsi al quanto semplice dato l'essenziale valore di libertà, di democrazia che lega i due paesi nel comune spazio di diritti, accoglienza, pace e sicurezza che è l'Unione Europea. Ma per essere ancora più chiara prendo in prestito un passaggio tratto dall'intervento che il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha tenuto all'Università della Sorbona di Parigi a luglio dell'anno scorso. In omaggio a una delle istituzioni accademiche più antiche e importanti di Europa, quale la Sorbona, che è bene ricordarlo anche grazie alla ricchezza degli scambi intellettuali di cui gode, ha contribuito allo sviluppo delle idee e dei concetti che sono alla base dell'odierna società europea. Il Presidente appunto ha parlato di un modo di essere e di pensare nel quale la persona è posta al centro di una fitta rete di diritti e tutele che garantiscono il suo libero esprimersi, il suo svilupparsi come singolo e come comunità. E questo in definitiva l'obiettivo principale della cultura intesa come strumento risolutivo alle sfide globali che rischiano di mettere sotto pressioni le nostre rispettive democrazie e direi che a fronte di quanto vediamo attualmente muoversi nel quadro europeo dovrebbe essere ormai uno dei nostri principali punti in cima alle nostre agende. Visto che come già stato detto il Trattato del Quirinale è un progetto capace di trasmettere nuova energia all'interno del percorso europeo dobbiamo continuare ad allenare la nostra consapevolezza collettiva tramite la promozione del dialogo, della connessione valoriale e culturale e infine dell'unità. Del resto quello che stiamo costruendo in Europa spinti dall'emergenza della guerra è il frutto di una volontà comune che deve essere in grado sin da ora di indicare un progetto solidale, di fiducia reciproca e anche di difesa. Ed ecco quelli che il tema della valorizzazione dei giovani e delle idee non può più porre resistenza all'influenza delle differenze culturali che si assottigliano sempre di più anche grazie a iniziative come il servizio civile italiano-francese, la ricerca e la formazione condivise e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e materiale. Su quest'ultimo punto si sono espressi ottimamente i ministri della cultura della regione euro-mediterranea che a giugno si sono riuniti a Napoli. Tra i principi presenti nelle dichiarazioni finali si legge appunto la protezione e la valorizzazione dell'ineschimabile cultura e patrimonio culturale materiale e immateriale della regione euro-mediterranea da catastrofi, conflitti, crisi e cambiamenti climatici costituiscono una sfida e un appello imperativo a cui dobbiamo rispondere insieme per il bene comune. La distruzione del patrimonio culturale ha un profondo impatto sulle società e sui loro individui e comunità, interrompendo la trasmissione di conoscenza fra le generazioni e indebolendo le basi per la pace e il dialogo. Lo scambio culturale e la cooperazione in materia svolgono quindi un ruolo chiave sia per il mantenimento dell'assetto democratico inclusivo delle nostre società, sia per il rafforzamento dei contesti territoriali in transizione. in conclusione poi con lo scopo di fornire qualche aggiornamento ma lo ha già fatto il dottor Frigeri e lo ringrazio di questo del trattato possiamo dire che appunto abbiamo vista la conclusione del percorso al senato un paio di giorni fa e sono in corso a livello amministrativo le consultazioni tra il nostro ministero degli esteri insieme alle altre amministrazioni pubbliche italiane e controparti francesi per dare attuazione ai numerosi impegni di cooperazione bilaterale previsti appunto dall'accordo e dal programma di lavoro che dettano una vasta gamma di adempimenti dall'organizzazione dei vertici intergovernativi alla creazione di un apposito comitato di cooperazione transfrontaliera. Adesso sarà proprio tempo di dare attuazione a questo a questo agli accordi diciamo che in cascata vengono da questo trattato proprio con un processo che io ritengo che sia quello più efficace quello di bottom up partire dal basso da queste forme di collaborazione di commissione così come diversi sono sono le provenienze dei relatori presenti oggi a questo tavolo così questa è la giusta strada da perseguire per essere veramente operativi e per dare un degno testimone ai giovani che oggi si trovano di fronte ad un quadro che sicuramente è incerto e in fase di transizione di cambiamento e dobbiamo essere pronti ad accompagnarli in un percorso che li porterà verso un futuro diverso ma che non può prescindere da quelli che abbiamo ribadito ancora una volta sono i nostri valori fondanti dei nostri rispettivi paesi e che ci uniscono ci hanno unito nella storia e continueranno ad unirci anche nel futuro ringrazio ancora tutti i presenti e il direttore grazie per tutto il Cespi per avermi invitata e ringrazio ancora grazie grazie mille a lei di essere intervenuta delle parole che ha detto intanto grazie per aver secondo me portato l'ambito delle relazioni culturali al centro della costruzione di una comunità dei suoi valori e questo è un punto importante spesso si dà molta molta enfasi a quelli che sono i rapporti commerciali eccetera ma in realtà questo accompagnare i giovani ma accompagnare la società viene appunto può avvenire solo in termine uno scambio culturale e prendiamo appunto l'impegno e continuiamo a dare la nostra disponibilità rispetto a questa a questo dialogo no bottom up cioè di questa dialogo aperto nella definizione quelle che poi saranno i contenuti operativi del e che crediamo sia sia importante su cui siamo disponibili a dare il contributo ora chiederei dare la parola al dottor Christophe Musitelli consigliere per la diplomazia culturale presso la direzione generale globalizzazione della cultura del ministero degli affari esteri francesi ehm e a lui chiederei eh realmente eh tre una una fotografia per quanto dello stato dell'arte dal 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 suo punto di vista quelle che possono essere le 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 piste più interessanti no eh più eh interessanti in termini di rafforzamento di questa cooperazione e un terzo elemento rispetto a eh questo che eh nell'esperienza italiana è eh abbastanza nuova è è stata eh costituita solo eh quest'anno questa direzione ehm eh generale per la diplomazia culturale che è uno strumento eh invece eh molto importante eh in politica estera e che appunto ehm vuol dire l'esperienza italiana è molto eh è ancora all'inizio da questo punto di vista nonostante poi in realtà sia uno strumento poi utilizzato eh concretamente nei fatti ehm prego dottor Musitelli grazie grazie direttore e un saluto a tutti sono molto felice di di poter dialogare con voi oggi da da due anni ormai sono tornato da Roma e dunque mi fa piacere ritrovarmi di nuovo virtualmente nella questa bellissima città sono stato come come ha ricordato l'ambasciatore consigliere culturale dal dal duemilasedici al duemilaventi periodo complicato periodo politicamente eh trasformativo molto volante pieno di momenti di avvicinamento ricordiamoci che lo spunto del del trattato eh viene dal vertice di Lione del duemiladiciassette un momento alto e momenti di crisi arrivata all'apice con il richiamo dell'ambasciatore nel nel febbraio duemiladiciannove poi arrivata la crisi del covid un momento molto sofferto ma che scaturisce oggi con un trattato splendido che 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 sarà per noi un perno eh della nostra cooperazione sono tornata al ministero a Parigi da da ormai due anni e come ricordava il direttore sono cerco di aiutare a a ridefinire le nostre modalità di intervento nel mondo nel campo di quello che una volta non tanto tempo fa negli anni novanta si chiamava il soft power cioè cultura educazione ricerca sviluppo università ma non più eh arco tematico ma che oggi assomiglia sempre di più al al hard power cioè il mondo attuale che è un mondo concorrenziale brutale mondo nel quale la giornata culturale è diventata sempre di più uno spazio di battaglie uno spazio di battaglie intense tra paesi eh uno spazio nel quale le potenze di imporre dei racconti a proiettare immagine positive del loro ruolo nel mondo mi pare importante partire da lì per rispondere anche alla scusate parto dal terzo punto ma mi sembra abbastanza importante in nel contesto molto molto tormentato che che conosciamo non c'è più soft power c'è un confronto duro tra modelli modelli di società e modelli che integrano la dimensione culturale la dimensione educativa la dimensione di ricerca cioè oggi e questa è una novità la diplomazia culturale non è più strettamente qualcosa in più e con essa e e in un arco di continuità con la diplomazia politica è un mondo un modo di strutturare la nostra relazione con i paesi nel mondo e questo mi sembra molto importante non solo perché c'è stato per molto tempo quest'idea di dire che cultura e università ricerche sono un po' la cosa in più la cosa che fa bello su un trattato la mettiamo lì perché i giovani sono carini ci possono aiutare ma alla fine rimane sempre un trattato politico qui siamo partiti da qualcosa di 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 diverso dall'idea che tutti questi elementi creano le diplomazie e questo modo di rendere nobile qualcosa che per i diplomatici classici non lo era mi sembra un momento importante di presa di coscienza scusate sono stato un po' lungo ma come appunto in Italia c'è anche questa riflessione attuale al ministero degli esteri sulla questione ho voluto parlare un po' anche perché questi elementi di sottofondo sono secondo me utili per aiutarci a capire quanto sia importante oggi la creazione di relazioni profonde strutturate articolate tra paesi alleati che condivinano una visione di valori ideali come l'abbiamo già già detto e dunque come come osservatore attento di questa relazione franco italiani da ormai decenni devo dire sono molto felice della firma del trattato perché ci propone sia una bussola strategica come diciamo in altri ambienti più più militari sia uno strumento di stabilità e di visione di lungo termine per le varie cooperazioni tra i nostri paesi nell'ambito del trattato la la questione delle relazioni culturali culturali nel senso ovviamente più ampio della parola che include università e ricerca ha un ruolo assolutamente fondamentale e tramite la cooperazione educativa universitaria di ricerca che le nostre società si scoprono e imparano a conoscersi e per me questo il punto centrale il dialogo tra le società civili è cruciale per il successo del trattato l'avete tutti già 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 detto non sto qui a dire che le cooperazioni istituzionali o politiche non sono importanti sono ovviamente fondamentali per impostare una visione comune dai problemi mondiali per trattare con con efficacia le crisi che dobbiamo affrontare oggi più che mai insieme ma voglio semplicemente insistere come l'avete già fatto sul fatto che la parte culturale del trattato è la finestra aperta sulle società e sul grande pubblico dei nostri paesi dobbiamo più che mai e l'onorevole l'ha ricordato parlare ai cittadini far capire i motivi che hanno spinto due paesi già interdipendenti come come diceva l'ambasciatore ad approfondire il loro legame perché l'abbiamo fatto c'è una pedagogia da usare sia in francia che in italia e secondo me più in francia che in italia per far capire l'uso di questo strumento e l'orizzonte europeo sul quale si costruisce e che è assolutamente fondamentale su questo scenario non semplice quali sono gli obiettivi che fissiamo al trattato cosa vogliamo compiere che non sia solo il seguito di quello che già facciamo insieme e come abbiamo detto piuttosto bene direi che ci sono due modi molto brevemente di usare il trattato per arricchire le nostre relazioni c'è una logica di rilancio e una logica di trasformazione sono ovviamente legate uguali sono per cercare di definire sull'approfondimento e il rilancio di cui avete già già parlato dobbiamo ricordare che questa relazione si è costruita nel tempo e non va oggi completamente reinventata va completata va approfondita va rilanciata uno dei settori nel quale questo rilancio mi sembra più più fondamentale oggi è la questione dell'educazione e della lingua insegnamento del francese in Italia rimane dinamico siamo a un milione ottocento milioni di ragazzi e ragazze che che imparano il francese molto meno come sapete francese che imparano l'italiano abbiamo più di 300 licei che propongono l'ESABAC in questa idea di strutturare sempre di più percorsi comuni ma la concorrenza sia per l'italiano in francia che per il francese in Italia è sempre più importante particolare con lo spagnolo che aveva una crescita del numero di studenti abbastanza impressionanti questi questi ultimi dieci anni e il francese nelle scuole italiane ha un problema di immagine chiaramente un problema che possiamo poi definire ma nel caso di farlo oggi insegnamento magari un po tradizionale un modo di non affrontare le problematiche del mondo contemporaneo mentre potremmo benissimo fare dunque si fa sentire in molti paesi si fa sentire specificamente in Italia e ovviamente in quest'ambito la firma del trattato può veramente rilanciare questo settore e su un punto preciso che è la formazione degli insegnanti abbiamo qui il perno intorno al quale gira tutta la questione educativa che dobbiamo totalmente strutturare ovviamente gli scambi tra i nostri paesi non si limitano alla lingua ma le lingue l'immersione nella lingua dell'altro dall'età più giovane è assolutamente cruciale per creare questo legame durevole che cerchiamo di creare e di approfondire oggi dunque abbiamo formato per dare un'idea 2.200 insegnanti di francesi in Italia l'anno scorso dobbiamo fare meglio dobbiamo fare di più e dobbiamo farlo in un contesto in cui dai due lati andiamo andiamo avanti con una nuova ambizione un altro campo educativo non direttamente legato legato alla lingua ma totalmente fondamentale col quale il trattato fissa obiettiva obiettivi e ambizioni la cooperazione tra istituti di formazione professionale anche qui è un campo assolutamente cruciale dall'osservazione che facciamo da vari anni sulle cooperazioni locali tra istituti tecnico superiori e con plus de métier in francia abbiamo capito che c'era un profondo desiderio di collaborazione per costruire centri di eccellenza professionale franco italiani in settori specifici pensiamo ai sistemi intelligenti alla biotecnologia al settore automobile tra lombardia e uvergna cioè ci sono molte niche specifiche di collaborazioni possibili che dobbiamo adesso approfondire strutturare meglio e il trattato ci dà questa possibilità l'ultimo punto sulla questione piuttosto di rilancio che di trasformazione e la questione ovviamente universitaria la dinamica bilaterale è sempre attiva non ha sofferto più di tanto dalla crisi dal livello delle mobilità di studenti studenti italiani sono sempre attratti dall'università francesi studenti francesi anche vengono in italia ancora di meno ma sempre di più e anche lì su percorsi specifici contiamo quest'anno 16.500 italiani in francia un numero importante che possiamo anche capire legandolo al brexit e a forse un'attrazione minore della cina o di diciamo una ricomposizione verso l'europa degli studenti dobbiamo ovviamente approfittare del trattato per approfondire questa dinamica attraverso molti molti strumenti di cui parlerete molto meglio di me ma ma per noi uno degli strumenti essenziali sono i doppi titoli corsi di studi binazionali organizzati dagli istituti universitari nei due paesi ne abbiamo 319 esattamente lo stesso numero del liceo esabac che sono 316 siamo lì è un numero importante che potrebbe crescere ancora mi fermo qui sull'università perché sono circondato da da eminenze universitarie che molto meglio di me potranno parlare di questa di questo panorama dicevo secondo e ultimo punto sulla trasformazione il trattato come trasformazione profondo trattato può essere l'acceleratore di dinamiche non ancora ben definite e che trovano in lui un elemento di strutturazione che ancora non aveva il caso del 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 progetto di cui ha parlato l'ambasciatore nell'ambito culturale che si chiama il grand tour progetto voluto dal servizio dell'ambasciato molto ambizioso ne posso parlare molto semplicemente perché non l'ho fatto io dunque lo dico veramente sinceramente un progetto culturale franco italiano con una componente tedesca che cerca di proporre un nuovo modello di mobilità in italia per giovani artisti europei cioè sin dal prossimo settembre verranno accolti in 22 residenze situate su tutto il territorio italiano una sessantina di artisti francesi tedeschi e ucraini per il primo programma programma sarà poi aperto nel 23 ad altri paesi europei e completato da residenze in francia per artisti italiani ricordiamo che l'ispirazione di questo progetto viene da un qualcosa che abbiamo fatto con i con i tedeschi a palermo qualche anno fa un centro di un istituto franco tedesco intera siciliana e i tre elementi sono ovviamente fondamentali progetto è finanziato in gran parte da donatori privati e corrisponde bene ci sembra allo spirito del trattato cioè costruito in totale cooperazione con strutture locali del territorio è stato per noi un lavoro molto interessante andare appunto a dialogare con le strutture a immaginare il formato di queste residenze è un modo anche per gli artisti di scoprire nuovi territori di interagire con le popolazioni di essere confrontati a modelli diversi e di mantenere sempre questa volontà di situarsi in un modello europeo ecco devo dire che questo progetto riassume in qualche modo l'idea che vogliamo avere cosa cosa dovrebbe essere una cooperazione internazionale una residenza d'artista non è per sé deve diventare uno strumento di diplomazia culturale e per questo dobbiamo andare alla scoperta di territori inventare modalità di interazioni nuovi e originale non si tratta più di mandare un artizio in un artista in uno spazio per isolarlo dal mondo farlo creare e poi torna a casa no lo vogliamo confrontare con un mondo inaspettato e immergerlo in una situazione particolare non funziona sempre devo dire alcuni artisti non sono aperti a questo tipo di scoperte ma ecco è quello che abbiamo voluto sperimentare e che l'abbiamo anche sperimentato negli stati uniti con la villa albertini nuovo nome del nostro servizio culturale dunque trasformazione rilancio mi fermo qua perché sono già stata abbastanza lungo dico solo un'ultima cosa ne avete parlato tutti c'è un elemento fondamentale dal trattato che non ho avuto tempo di parlare adesso che è la questione del patrimonio che è fondamentale ovviamente una priorità strategica sia per la francia che l'italia una cooperazione molto molto ambiziosa e siamo stati molto fortunati di avere in italia un ministro della cultura durevole molto più dei nostri e particolarmente investito in questo campo dunque è un elemento che accenno così o passaggio ma che dovremo approfondire vi ringrazio molto e scusate per essere stato un po lungo grazie grazie mille grazie intanto appunto per la chiarezza la lucidità con cui ha ci ha introdotto in queste cose grazie per perché da un lato ha dato anche delle indicazioni molto molto specifiche su cui appunto discutere anche con gli altri interlocutori e nello stesso tempo è riuscito anche a come dire a introdurci su il senso no di un trattato di questo tipo no qual era nello specifico nell'ambito culturale ma c'era bisogno di un trattato e credo che la risposta sia sia molto chiara nelle parole che hai detto alcuni spunti che che mi sembravano interessanti su cui magari poi discuteremo anche con i colleghi dell'università è proprio riguardo alla mobilità dei giovani e quanto la la didattica a distanza rappresenta un'opportunità una sfida no anche rispetto a al tema della lingua che è un tema centrale la cultura passa necessariamente attraverso la lingua non c'è modo di di comprendersi e di comprendere le sfumature di una di una cultura se non si passa attraverso la lingua ma io oggi ora vorrei chiedere a dottor massimo brai direttore dell'istituto dell'enciclopedia italiana ex ministro della cultura ex responsabile del salone del libro ha quindi un bagaglio di esperienza e di enorme e per cui vorrei chiedere a lui un intervento anche più in generale su quella che è la l'industria della cultura anche rispetto agli scambi e le opportunità che si aprono attraverso il trattato del perinale e grazie di essere con noi grazie daniele grazie a tutti approfitto anch'io per ringraziare l'ambasciatore massè saluto con piacere cristofo musitelli che ho avuto il piacere di incontrare nel suo periodo di soggiorno a roma io credo che sia importante proprio quello che cristofo musitelli ci ha detto rispetto al perché se ci e ci se ci fosse bisogno di un nuovo trattato mi soffermerei su anche per essere il più chiaro possibile su quelli che sono i momenti storici dei rapporti culturali tra i nostri paesi su quelli che sono stati e sono i luoghi di questi accordi e anche sulle persone che secondo me hanno avuto una centralità per capire anche come si possa interpretare nel miglior modo possibile questo accordo è stato citato l'accordo del 1949 per l'esattezza 4 novembre 1949 era un accordo che fu firmato dal ministro degli esseri italiani italiano carlos forza e dal ministro degli esseri francese robert schumann conteneva 12 articoli e una premessa che molto breve che traduco l'obiettivo era di rendere ancora più strette le relazioni letterarie artistiche scientifiche accademiche che da tanti secoli esistono fra i nostri popoli animati dal desiderio di proseguire in tale campo l'opera di ravvicinamento politico fra Italia e Francia quindi si assegnava proprio alla cultura come dire questa sorta di primo momento rispetto a relazioni politiche poi arriviamo a un accordo secondo me da non trascurare quello del 9 aprile del 56 il gemellaggio tra Parigi e Roma viene spesso dimenticato ma quell'accordo fu pieno di buone premesse di buoni significati e lo dico di passaggio perché a questo accordo si rifà moltissime volte un grande presidente della repubblica francese che francois ammiterà e del suo ministro è la cultura Jack Lang ogni volta che deve applicare alcune scelte di relazioni culturali tra Italia e Francia cito poi questa iniziativa comune del 2013 fatta tra il governo francese e il governo italiano capofila nel definire quella che fosse in Europa l'eccezione culturale lo dico perché un momento che spesso abbiamo trascurato di fronte a Bruxelles avevamo un trattato di enorme importanza per gli Stati Uniti e per anche l'Europa era il TTIP il grande trattato commerciale con la proposta americana di far rientrare gli ambiti anche qui cito culturali all'interno di un trattato commerciale le firme della ministra francese Filippetti e del governo italiano furono i capofila di quella che invece venne approvata come l'eccezione culturale lo dico perché mi chiedo che sarebbe successo se si fosse ceduto a questa scelta e invece ancora una volta credo che la storia dei nostri delle relazioni tra i nostri paesi non a caso portano a quella che fu una scelta molto forte nelle due relazioni dei rispettivi governi uno dei punti nodali di quella scelta fu il trattato di Lisbona ancora una volta una data 2007 e la citazione sottoscritta da tutti i paesi europei sulla tutela della ricchezza culturale e linguistica mi sembra che a questo giustamente si è rifatto l'ambasciatore nel suo discorso iniziale di questa giornata e ultimo appunto arriviamo al trattato del Quirinale sono stati richiamati l'articolo 8 che è quello insomma su formazione scuola ricerca e l'articolo 9 sulla cultura forse importante anche una parte dell'articolo 5 che è quello appunto sul confronto col mondo digitale perché credo che sia molto difficile penso ancora una volta alle parole di Musitelli interpretare come dire la trasformazione o il cambiamento senza pensare alle sfide che ci pone il mondo digitale e c'è un libro molto bello che ha scritto Jean-François Germain senza dilungarmi nel 2005 si intitola gli scambi culturali franco italiani che credo ricostruisca esattamente quello che è accaduto perlomeno dal 1600 diciamo dalla quella grandissima esperienza della Republique de l'Etre e che vedono la nascita a Roma di un luogo era il terzo tema appunto che volevo sottolineare i luoghi di importanza in queste relazioni che è Villa Medici che ospita l'Académie de France dal 1666 e ora tutto questo secondo me ci deve portare realmente a porci alle domande cioè quali sono le forme migliori in cui possiamo interpretare oggi nel ventunesimo secolo questo trattato e queste relazioni è stato detto della lingua e questa è sicuramente una grandissima sfida c'è un tema come è stato anche qui già anticipato di tutela della lingua come in genere dei beni culturali faccio presente che questa parola tutela è una parola che è stata molto contrastata sia in Italia che in Francia negli ultimi anni diciamo adesso ne parliamo un po' più tranquillamente ma sino al 2020 forse la pandemia ci ha aiutato a capire quanta importanza abbia la tutela dei beni culturali è stato detto da molti esponenti di molti governi europei che fosse il principale ostacolo all'innovazione nei beni culturali e quindi forse vale la pena richiamare che insomma quando nella costituzione italiana i padri costituenti e principalmente Aldo Moro e Concetto Marchesi la loro relazione ebbe grandissima eco anche in Francia se non sbaglio è proprio dal 49 quando Marot dà vita al ministero in Francia c'è proprio questo richiamo al tema della tutela dei beni culturali che mi piacerebbe appunto non che non dimenticassimo e dicevo la lingua al centro qui c'è da fare moltissimo voglio dire io non credo che sia solo un problema di difesa della lingua italiana della lingua francese come sapete da un secolo circa Treccani lavora a differenza di altre grandi istituzioni che tutelano la lingua storica lavora per scelta di questo suo fondatore di questo filosofo che era Giovanni Gentile su quella che lui chiama la lingua nuova la lingua che cambia la lingua che si confronta con i grandi cambiamenti che ci sono nella società ora questo dal nostro punto di vista dall'osservatorio che abbiamo che è un osservatorio diciamo fisico editoriale ma anche un laboratorio digitale io ripeto perché magari non lo diciamo abbastanza che il mondo digitale Treccani tocca circa un milione e duecentomila utenti unici al giorno tra il portale Treccani il portale scuola e i suoi social quindi una platea enorme sono tutti ragazzi tra i 18 e 34 anni sono più donne che uomini il tema della lingua è sicuramente il tema di principale attenzione e all'interno della lingua ci sono le nuove forme della lingua ultimamente abbiamo fatto questo lavoro credo veramente importante per esempio sulle parole che vengono da questa espressione della musica rapper che rinvia tutto questo tema dei nuovi italiani che porta alla luce come dire da una parte un rifiuto di una lingua che secondo dal loro punto di vista è secondo me giustamente rifiuta come dire definizioni che oggi significano poco nel ventunesimo secolo e dall'altra ci invita invece a guardare l'Europa come loro ci chiedono di fare come realmente qualcosa che si debba fondare sui valori della lingua e dalla lingua il passaggio alla cultura e dicevo del della sfida digitale beh questo mi sembra essere davvero un punto nodale siamo terribilmente in ritardo sia nelle relazioni Italia Italia Francia che come Europa il 94,6 per cento è la conoscenza a cui tutti noi attingiamo ogni giorno passa da un solo canale che è un motore di ricerca che si chiama Google quindi vuol dire che i nostri reindirizzamenti e quindi mi preoccupa soprattutto se realmente ci piace così tanto coinvolgere la cosiddetta società civile ecco la classe dirigente dovrebbe preoccuparsi che le nostre nuove generazioni vengono reindirizzate nella scelta della conoscenza per quasi il 95 per cento da un motore che di cui non critico assolutamente nulla perché è una logica rispettabilissima la cui logica principale è quella che è stata ben studiata e si chiama la frequenza d'uso quindi se un grande testo che ha fondato l'umanesimo non solo italiano ma europeo scritto da Petrarca meno noto non viene utilizzato quel testo cadrà come si dice dicono quelli più bravi di me nel cosiddetto oblio digitale e quindi è probabile che noi avremo generazioni che non sapranno nulla di quali sono state le basi di riflessioni sull'umanesimo europeo. Faccio presente che quel testo ebbe una straordinaria diffusione in Italia e in Francia nel Quattrocento potremmo dire che era un vero best seller oggi è un testo che pochi di noi probabilmente potrebbero rivedere o immaginare se ci sono degli studi che lo rendano attuale. Di fronte a questo abbiamo fatto molto sia come Francia che come Italia penso ai almeno che io sappia ma forse Cristof ha più notizie di me sull'idea di rilanciare un progetto che era europeana ma come dire abbiamo davvero fatto pochissimo. Lo dico perché questo si lega a un'altra forse lettura un po' superficiale di quello che è successo. Io lavoro e ne sono orgoglioso in un luogo che è nato, non è un'anomalia europea o del mondo occidentale ma questi luoghi che nacquero con la missione di definire uno strumento che era l'enciclopedia non era la loro vera missione erano più di dieci ed erano in tutto il mondo occidentale. In Francia Universalis aveva una centralità non meno di tre cani ma pensate a Britannica pensate a Espasa Brocaus in Germania, Mayer, avevano tutti una missione molto simile che era quella di formare le classi dirigenti e aiutare a tutelare le culture nazionali. Ovviamente chi interpreta bene questa lettura capisce che era il momento di configurazione degli stati nazionali. Di fronte a questo che è stato definito da qualcuno ciclone Wikipedia questi istituti sono quasi tutti finiti e noi abbiamo assistito come dire senza che qui un po' mi diverto quando dico che un intellettuale si divertisse a scrivere qualcosa quindi abbiamo ignorato quelli che dovevano essere i luoghi in cui avremmo formato una classe dirigente e tutelato le memorie storiche e le culture nazionali. Mi risulta che è stato scritto pochissimo qualcosa bene ha fatto a scritto un grande intellettuale come Darfton dicendo appunto che probabilmente gli stati avrebbero dovuto riflettere prima di abdicare a questa funzione. Oggi come immaginate è molto difficile pensare a una funzione nazionale ma invece sarebbe utilissimo pensare a una funzione europea perché avremmo moltissimo bisogno di un'identità culturale europea avremmo molto bisogno di riflettere sulle forme di formazione e di scambio culturale come giustamente ha detto l'ambasciatore delle nuove generazioni all'interno dell'Europa. Siamo un po' gli ultimi ad aver mantenuto questo ruolo lo facciamo insomma un po' per fortuna e non per bravura lo dico apertamente ma qualche anno fa Bruxelles si incominciò anche a discutere dell'opportunità o meno di tornare su questo tema. Io credo che avremmo molto bisogno di definire un progetto di questo tipo e credo che Italia e Francia potrebbero metterlo all'attenzione proprio di un'agenda di lavoro. Lo dico perché questo si rifà molto allo sviluppo del mondo digitale e mi capita di occuparmi particolarmente in questo periodo di formazione ma insomma oggi la formazione che ci richiedono i ragazzi in età scolare nella parte come dire di studi dai 13 ai 18 anni è una formazione che per oltre il 60 per cento in quasi tutti i paesi europei è solo digitale e quindi anche qui dovremmo porci un tema dove attingeremo i contenuti da mettere a disposizione. Scusate se sono un po' severo su questo ma in tutta Europa adesso ci siamo un po' svegliati abbiamo incominciato a parlare di privacy adesso incominciamo a parlare di contenuti ma lo dico anche a chi rappresenta le istituzioni in questo nostro incontro sino a pochi anni fa abbiamo riconosciuto quelle piattaforme che traducendo come sempre dagli inglesi si definivamo strumentali cioè non ci interessava per niente che avessero dei contenuti all'interno ma che avessero soltanto degli ottimi strumenti da mettere a disposizione delle scuole. Io sono un po' imbarazzato a dirlo però purtroppo è accaduto questo e quindi noi lasciavamo che fossero gli studenti le studentesse le professoresse i professori a cercare cito testualmente nella libera rete quei contenuti sui quali costruire il loro termine terribile pacchetti di formazione. Ecco questa è stata l'Europa e il mio paese oggi ci siamo un po' svegliati stiamo capendo che dobbiamo mettere al centro il contenuto perché altrimenti vorrei che nessuno parlasse più di fake news ricordo che questo termine non è corretto. L'Oxford Dictionary e il vocabolario treccani quando fissano questo neologismo usano un termine bellissimo che viene dal latino e post veritatem e la paura che si ha che noi stiamo entrando in un'epoca in cui non riconosceremo più la verità dalla non verità perché ovviamente se diamo solo strumenti e non quelle forme di mediazione sociale e culturale sarà molto difficile uscirne. Ecco allora e davvero mi scuso se mi sono dilungato che io interpreterei questo trattato come l'occasione per due paesi che hanno forte al loro interno queste sensibilità. Il trattato che uno dei trattati che ho richiamato prevedeva i luoghi in cui si sarebbe svolta questa continua attenzione al cambiamento. Erano quattro istituti per l'Italia, quattro istituti per la Francia ai quali si aggiungeva un ruolo straordinario che ha sempre giocato l'Ecole Française de Rome dal mondo antico al mondo contemporaneo ma anche luoghi non richiamati direttamente nei trattati. Quanta importanza ha avuto l'Istituto di Studi Storici dell'Alto Medioevo di di Spoleto. Quante discussioni le Goff o Arnaldi, Capitani, Manselli per non tornare ancora indietro insomma ai testi che ha scritto Mark Bloch hanno avuto proprio sui grandi nodi della contemporaneità e le grandi sfide della contemporaneità. Ora alcune di queste sfide l'ambasciatore ce le ha poste credo che sia davvero una grande opportunità per riflettere probabilmente anche un gruppo di lavoro che si dia delle priorità e anche dei lavori comuni potrebbe essere importante e questo come dire in questo la storia ci aiuta sicuramente spero che ci aiuti al di là come dire delle tante buone intenzioni anche un vero calendario di impegni che potrebbe aiutare a almeno affrontare e orientare tutti noi ma soprattutto i più giorni di noi verso queste scelte. Grazie. Grazie mille Massimo per la profondità dell'intervento. Colgo due sollecitazioni, una magari poi la ribalto all'onorevole Ermellino e su appunto si parla di un progetto per una politica fiscale europea, un progetto per una politica estero-europea, un progetto per una politica di difesa europea e un progetto per una politica culturale europea, cioè di un progetto culturale europeo. Questo è un altro aspetto che forse potrebbe essere interessante. L'altro è appunto l'invito che faceva Massimo su appunto sul ruolo, l'invito e il ruolo delle forme di mediazione sociale e culturale. Qui rimando al mondo dell'università a cui adesso ci rivolgiamo in questa seconda parte e dando la parola al rettore dell'università l'Umsa, Francesco Bonini e approfitto anche per dare voce a due interventi che sono comparsi sulla Q&A e sulla chat di due docenti di francese che appunto lamentano e denunciano quello che già si diceva circa la difficoltà a portare avanti un lavoro di insegnamento della lingua francese in Italia. Prego Francesco Bonini. Grazie, ringrazio molto del ringrazio molto dell'invito e anche della disponibilità che il Cespi ha dato per poi proseguire questo questo lavoro di confronto e di e di progettazione. Naturalmente sottoscrivo direi integralmente gli interventi precedenti e quindi io volevo semplicemente dire quattro cose con una premessa che riprende parte del dibattito. A partire dalla questione della lingua, giustamente una delle colleghe intervenute dice che ormai la falcidia delle cattedre di francese dalla scuola superiore arriva all'università. Noi abbiamo nei nostri ranghi una importantissima francesista la professoressa Papasoli e la sua cattedra sarà presa da una docente di lingua e letteratura inglese proprio appunto per pur mantenendo noi una cattedra di francese proprio per questo per questo motivo. Quindi c'è un tema importante sulla lingua che è legato anche allo status del francese come lingua veicolare dell'Unione Europea che è uno status ormai semplicemente credo consegnato alle norme piuttosto che alla alla concreta alla concreta attuazione. Comunque certamente il questo è un tema secondo me molto molto significativo che riprende la questione già più volte sottolineata in maniera assolutamente condivisibile dell'inserimento del trattato del Quirinale nel più complesso quadro europeo cioè inserimento nella storia delle relazioni italo-francesi che sono stati culturali che sono state così persuosivamente evocate nel contesto appunto europeo. Io ero a Parigi nei momenti del grande freddo che ha preceduto il percorso verso il trattato del Quirinale e appunto lì si toccava con mano l'importanza delle relazioni italo-francesi e la necessità che queste appunto siano inserite in un contesto europeo, contesto europeo che appunto è un contesto molto complesso dal punto di vista del consenso appunto a quello che giustamente il consigliere Musitelli diceva appunto a proposito dei modelli di società. Quindi questi temi, cioè il tema dell'Unione europea nella sua pluralità linguistica e delle relazioni italo-francesi culturali che stanno dentro questa definizione del quadro europeo sono direi strategiche e meritano in qualche modo di essere anche messe a tema. Per quanto attiene più specificamente appunto le questioni che possono essere di pertinenza delle università, io ne ho identificate quattro molto brevemente e semplicemente per te. Il primo è l'università italo-francese già citata nel trattato e queste reti di università europee che sono sicuramente dei contenitori importanti che vanno resi appunto più funzionali. Il tema delle università europee non è appunto di di stretta pertinenza ma certamente nei progetti finanziati dall'Unione e nei tanti progetti che non sono ancora stati finanziati dall'Unione l'asse franco-italiano è sicuramente molto presente e strategico. Quindi credo che un supporto alla progettazione di università italo-francesi che di università europee che abbiano appunto un motore italo-francese credo che sia un interesse strategico del non soltanto dell'attuazione del trattato ma anche diciamo così del sistema universitario italiano così come le migliaia di accordi Erasmus, i doppi titoli e anche i PhD comuni perché appunto doctor europeus anche questo anche qui ci sono molte interazioni nella mia ma in tantissime università italiane appunto tra il sistema italiano e il sistema francese. Certamente la riforma italiana del dottorato non ha aiutato molto come purtroppo tutte le legislazioni sono spese soprattutto le normazioni regolamentari sono spesso contraddittorie non ha aiutato molto un processo di internazionalizzazione dei dottorati italiani che sia coerente e che sia e che sia facilmente facilmente sviluppabili però appunto su questo credo che siamo avanti e come diceva l'ambasciatore la recensione la messa a giorno progressiva appunto di tutta questa messa di interazioni aiuta può aiutare appunto la lo sviluppo delle delle stesse. Il secondo tema è quello relativo alle istituzioni e alle grandi infrastrutture è prevista appunto una una cadenza biennale dell'incontro tra le rispettive conferenze dei rettori ormai c'è una rete di incontri tra le conferenze tra le conferenze dei rettori oltre alla conferenza europea dei rettori e questo ovviamente insiste soprattutto sui grandi investimenti, CNR naturalmente dal punto di vista dei grandi investimenti e non a caso nel testo del trattato e poi anche nel testo del protocollo in qualche modo del programma di lavoro, del protocollo applicativo si insiste molto sulle scienze cosiddette sulle scienze cosiddette dure anche se appunto ormai la tendenza non è più solo verso le cosiddette STEM ma verso le cosiddette STAM cioè o STEAM cioè inserendo la parola ARTS la parola ARTI cioè la parola tutto la parola Humanities dentro l'inserire dentro il l'indirizzo di sviluppo appunto delle competenze scientifiche tecnologiche e matematiche quindi i grandi accordi tra gli enti questo è molto importante con l'accorgimento di inserire anche tutto quanto attiene alle cosiddette ARTS cioè alle scienze alle scienze umane. Volevo dire altre due brevi cose a proposito delle direttrici di investimento. Credo che appunto al di là di questi temi che sono in qualche modo che sono in qualche modo organizzabili in termini istituzionali e regolamentabili in termini istituzionali sia importante anche prevedere delle azioni diciamo così sviluppare, facilitare, promuovere delle azioni più spot. Direi in due in due direttrici. La prima direttrice è quella del sostegno da parte delle università, da parte del mondo universitario alle politiche e alle prospettive di convergenza. Cioè credo che sia molto utile essendo disegnato nel trattato del Quirinale tutta una ambiziosa, una giustamente ambiziosa serie di campi di implementazione di politiche pubbliche supportare l'implementazione di queste politiche pubbliche promuovendo ricerca e accumulo culturale. Il professor Salerno ne può dare una testimonianza a proposito del grande tema delle autonomie locali, della riprogettazione del sistema territoriale in ordine in un contesto europeo a partire dall'identità dei diversi ordinamenti nazionali. Quindi diciamo così un'azione di promozione più spot, cioè più lasciare una sorta di una serie di call direi che potrebbero anche mettere in movimento tante energie a supporto della progettazione dell'azione istituzionale. E infine direi un grande investimento sul tessuto civico comune. Credo che questo sia fondamentale perché noi ci troviamo i risultati, se permettete di passare dall'empireo al concreto, i risultati delle tornate elettorali non solo in Italia e in Francia ma in Europa disegnano una vasta area di disagio o comunque una vasta area di non partecipazione o comunque una vasta area che in qualche modo è preda delle più diverse propaganda. E quindi l'investimento sul tessuto civico comune credo che sia molto importante e che debba essere che debba essere appunto in qualche modo favorito anche dall'azione dall'azione non solo del diversi livelli dei diversi livelli scolastici come giustamente è ricordato nel trattato ma possa anche essere diciamo così stimolata nei confronti delle delle università. Investimento sul tessuto sul tessuto civico che contempla appunto anche un ruolo della istruzione cosiddetta superiore cioè quella università. Direi che ringraziando ringraziando tutti mi sento di concludere in questo modo e augurando veramente a tutti buon lavoro su questa su questa strada molto ambiziosa ma direi anche fondamentale per dare un po' un senso a questa nostra Europa. Grazie, grazie mille anche per gli spunti molto molto chiari e espliciti. Passerei la parola alla dottoressa Carla Bagna, professoressa all'Università per Stranie di Siena che appunto per vocazione ha l'internazionalizzazione come come punto di di riferimento. Prego. Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito, grazie al direttore Frigeri, grazie per anche per gli interventi che mi hanno preceduti preceduto che ehm condivido nei contenuti e condivido anche nella nelle linee che sono state illustrate. Eh parto da eh parto da una riflessione che deriva dalla degli ultimi quattro giorni nel quale a a Siena abbiamo organizzato una Summer School di Language Policy e Language Planning perché mi sembra che le tematiche ehm sollecitate dal trattato si inseriscono appunto in una più ampia questione delle politiche anche linguistiche, delle politiche di pianificazione di azioni eh rivolte appunto a medio e lungo termine ehm nelle relazioni tra l'Italia e la Francia e ehm alcune delle delle parole chiave che su cui volevo soffermarmi eh sono già state eh citate ma eh riparto da quella che è stata ehm evocata da dal direttore eh Musitelli sulla eh sulla questione delle di della cultura o del patrimonio e della lingua come aree di nicchia di intervento. In realtà appunto non sono aree eh di nicchia e non sono nemmeno aree che come spesso abbiamo trattato nel corso del tempo si devono essere trattate per eh compartimenti sani ma anzi come uno un filo rosso che prosegue nel corso del tempo e nella questione linguistica questo tema è ancora più eh più evidente ehm dall' osservatorio come università per storia di Siena questo tema è evidente eh ad esempio partendo mh analizzando anche semplicemente dei numeri eh dei numeri proprio legate alle relazioni tra l'Italia e la Francia. La Francia ehm è il paese in cui per quanto riguarda gli assistenti linguistici e italiani che vanno in Francia e francesi che vengono in Italia è comunque il paese dei sei coinvolti nel progetto che ha il più alto numero di assistenti linguistici che sono mh almeno cinque queste volte eh eh quelli previsti per altri paesi ed è vero che questi numeri dipendono dalla grandezza dei paesi pertanto non possiamo paragonare eh i paesi solo per numeri assoluti però segnalano un investimento che riguarda appunto eh contemporaneamente la formazione degli insegnanti gli interventi sui territori eh gli interventi che vanno a ricadere su una fascia di popolazione che è quella scolastica e che quindi eh se investita da un adeguato interesse formazione e ehm intervento probabilmente nel corso del tempo avrà più possibilità per iscriversi a un percorso esabacca in un liceo avrà forse più interesse a proseguire per un doppio titolo eh tra l'Italia e la Francia nel percorso universitario quindi non sono eh passaggi separati ma anzi passaggi che vanno incrementati eh e imprese più eh più coesi al loro interno ehm un altro elemento che mi viene eh che mi viene appunto da che è stato in parte richiamato è e che forse assume un valore diverso a proprio per il periodo o per i mesi che stiamo vivendo è proprio l'idea della mobilità cioè abbiamo dato o la mobilità come un valore fondante esattamente con un diritto alla salute un diritto alla mobilità eh pensiamo al eh ai trentacinque anni dell'Erasmus pensiamo a quello che eh è garantito all'interno della eh mobilità universitaria scolastica nel contesto europeo e allo stesso tempo sia la pandemia ma sia le vicende geopolitiche recenti ci fanno capire che dobbiamo anche eh diciamo ragionare in termini di mobilità barra immobilità perché per alcune eh alcuni soggetti in ogni caso o per ragioni contingenti o anche per ragioni di salute o di o di di diciamo condizioni economiche diverse eh non non è così eh immediato e non sarà possibile nel futuro eh effettivamente garantire quella mobilità ehm che noi abbiamo inteso principalmente come mobilità eh in presenza e non virtuale e e qui si riallaccia il tema dell'articolo in cui si parlava poi della eh della formazione anche col supporto eh digitale ehm quindi mh quali sono quali possono essere diciamo gli elementi che possiamo sviluppare che potremo o si potranno sviluppare eh un legame eh sicuramente per l'articolo otto nove ma anche dieci la questione trasfrontaliera eh che viene che è stata più volte evocata ma che è è un è un passaggio diciamo eh fondamentale ma anche la strutturazione di eh probabilmente eh protocolli eh territoriali e di procedure che siano rese eh traste rese evidenti più che trasparenti non solo trasparenti ma evidenti ehm a tutti i soggetti quindi dal basso la società civile evocata ma anche eh la società civile intesa anche come è appunto una sensibilizzazione nei confronti eh nei confronti dei eh dei giovani. Come università per stranieri eh accogliamo studenti non solo diciamo maggiorenni anche e soprattutto in estate anche eh eh progetti specifici legati ai licei bilingue eh di diversi paesi eh incluse della Francia ehm e quindi ehm il legato cioè richiamare costantemente elementi del made in Italy del ma 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 anche delle arti della musica delle o le residenze eh le residenze artistiche ehm richiamarli in un discorso più ampio che non è legato a ai gestori di quel tipo di quello specifico progetto o a chi lo promuove ma eh a chi ne beneficia territorialmente sì nei rispettivi nei rispettivi eh paesi. Io credo mi fermo qui e vi ringrazio ancora per questa opportunità. Grazie grazie mille a lei ehm appunto eh ora passiamo a un'esperienza che è quella dell'Università di eh di Torino che appunto anche nell'intervento eh della dottoressa Bagna rimandava richiamava no la questione trasordaliera eh ehm interessante anche quello che esiste eh già in termini patrimonio culturale comune in un'area appunto come quella eh piemontese e mh darei la parola ad Alessandra Fiorio eh Pla professoressa dell'Università di Torino e delegata per i rapporti con la Francia e i paesi francoponi. Grazie. Grazie mille e per non annoiarvi troppo presenterò farò una presentazione quindi provo a condividere lo schermo. Io appunto eh sono qui rappresentanza dell'Università di di Torino, degli studi di Torino e porto i saluti del nostro rettore eh Stefano Geona che non è eh potuto non ha potuto intervenire con noi oggi. Ehm quello che vorrei eh su cui vorrei riflettere e proporvi sono diciamo il rapporto che l'Università di Torino ha con eh la Francia e la francofonia e in particolare eh riprenderei tre tre due temi e più un terzo anzi tre temi che sono stati ampliamente discussi e ripresi dai miei colleghi in particolare dal dal rettore eh Bonini e che è un tema del dell'Università Italo-Francese, delle Alleanze Europee che noi sentiamo molto forte nella nostra Università. Ehm il in particolare appunto come come eh ricordavate prima la nostra Università è un università che è fortemente radicata sul territorio, è un'università trasfrontaliera diciamo ma è anche eh a forte vocazione eh internazionale e la nostra la mission diciamo la nostra missione quella di contribuire proprio all'innovazione, alla crescita sociale, culturale, economica del del paese. Tutto questo abbiamo un'ambizione, un'ambizione più grande che quella di diventare di essere una tra le università più dinamiche nel panorama internazionale favorendo una crescita sostenibile. Questa è un'altra tematica per noi molto forte in linea in linea con le la strategia dell'agenda venti trenta dell'ONU declinata poi nelle priorità della politica di coesione dell'Unione Europea e eh le linee strategiche ovviamente del next generation Italia. Tutto questo si inquadra molto bene con le tematiche strategiche ehm che sono state individuate dal dal patto del Quirinale e in particolare eh tocca anche a me citare gli articoli otto e nove ampliamente citati ma giustamente come ricordava la collega Bagna anche l'articolo dieci del patrimonio trasfrontaliero che per noi è è molto importante. In questi in queste tematiche diciamo strategiche ci ritroviamo ovviamente molto bene le tematiche della politica dell'Università di Torino che in particolare punta sugli scambi culturali tra le istituzioni, le alleanze europee di cui vi parlerò tra un attimo, l'inserimento nel mondo del lavoro, mobilità degli studenti, ruolo dell'università rispetto all'agenda venti trenta, eh sostenibilità e cooperazione allo sviluppo e politiche di inclusione, altro tema importante per la nostra università. E ovviamente in questo contesto i rapporti Italia-Francia per noi rientrano nella politica dell'Università di Torino, Italia-Francia non solo Italia-Francia, anche tutto in generale rapporti con il mondo francofono che risultano importanti per noi. Velocissimamente visto che abbiamo parlato di cifre mi sembrava importante ricordarlo in quanto in quanto anche è stato ricordato come sia importante puntare sul sui doppi titoli, doppi titoli di corsi di laurea, noi ne abbiamo, diciamo, il primo, la maggior quantità di doppi titoli che abbiamo a Torino e verso la Francia, in questa cartina vedete la distribuzione dei nostri doppi titoli, ma non solo di corsi di laurea, puntiamo molto sui doppi titoli di cotutele di dottorato, 65 cotutele di dottorato e ovviamente, vedete qua sotto, ovviamente la mobilità Erasmus per noi la Francia rimane uno dei, il secondo paese di scambi e di accordi con la maggior maggioranza degli accordi attuati di 268 accordi attivi. E qui avete i numeri della ricerca, ovviamente la cooperazione Italia-Francia per noi passa fortemente attraverso la ricerca, non sto a dilungarmi su tutto, abbiamo diversi accordi internazionali, tra cui alcuni di coordinazione francese con partner italiano, altri coordinatori unito con partner francesi. Da stesso modo, progetti competitivi Erasmus. Mi soffermo sui progetti competitivi Erasmus proprio per rirganciarmi a una delle tematiche importanti su cui vorrei porre l'attenzione, che è quella delle alleanze europee, che viene fortemente ricordata dall'articolo 8 al punto 4 e anche dall'articolo 9, in cui si parla di questo settimento di appartenenza europea comune che sentiamo molto forte in queste alleanze. In quest'ambito delle alleanze europee per noi è diventato dal 2020, quando Unito è diventato coordinatore di questa alleanza europea, è l'unico coordinatore nazionale italiano, peraltro, di un'alleanza europea. La nostra alleanza che si chiama Unito, Universitas Montium, ha come vedete si traccia una traiettoria, che è una traiettoria lineare, su territori trasfrontalieri e vedete che le università francesi coinvolte, soprattutto Chambery e Torino, sono proprio in questi territori trasfrontalieri per noi molto importanti. Altrettanto importante la seconda università francese che è Pau, poi dell'Andura, che traccia questa linea con il territorio trasfrontaliero di Saragoza, di spagnolo. E quindi la tematica della nostra università europea è proprio quella di promozione, diciamo, regioni che sono accumulate dall'utilizzo di queste lingue romanze, quindi puntiamo molto al plurilinguismo, a promozione dell'inclusività e allo sviluppo proprio delle regioni, nelle zone montane e trasfrontalieri, su cui appunto la nostra università si pone proprio al centro, anche dal punto di vista, diciamo, geografico. La nostra proposta, che è quella di tutte le università europee, quella di proporre un'università europea aperta, sviluppando modelli innovativi e quindi questa è, diciamo, una linea comune tra le diverse unità, università, alleanze europee che sono diverse in tutta Europa, una quarantina. E questi sono ovviamente il fatto di avere una università, un'alleanza europea permette poi di attrarre finanziamenti e stabilire finanziamenti dalla comunità europea. Il secondo punto che mi sembra molto importante perché mi sembra anche importante sulla tematica di attuazione degli accordi e porre l'attenzione sull'università italo-francese. L'università italo-francese è un'istituzione che è stata, che è stata istituita con un accordo intergovernativo firmato a Firenze nel novantotto e da parte italiana è poi diventato, è stato approvato dal Parlamento nel nel duemila, rettificato dal Presidente della Repubblica e noi la sentiamo molto forte perché il nostro rettore Stefano Geona è vicepresidente dell'università italo-francese che ha sede per la parte italiana all'università di Torino, ospitiamo la sede italiana, la sede francese a Grenoble. Cosa fa l'università italo-francese? L'università italo-francese ha diverse attività, ovviamente classicamente supporto economico ai progetti della didattica, ricerca e tra cui appunto sostegno economico a doppi titoli, co-tutele, tesi di dottorato, ma non solo, attività importanti e questo stiamo cercando proprio di lanciare e di renderlo preeminente e l'organizzazione di attività culturali. Anche in questo caso mi piace ricordare questo evento che è stato organizzato proprio nel giugno, adesso a giugno, che è sempre organizzato dall'università italo-francese, che è questo congresso sul patrimonio culturale per una crescita sostenibile, tema centrale, anche questo, ritorniamo a un tema centrale proprio ricordato da questo articolo 9 del trattato del Quirinale. Siamo in corso di organizzazione insieme, strettamente connessi anche con, supportati dall'università italo-francese, dell'ambasciata francese di Roma, un secondo congresso, marzo 2023, sulle tematiche proprio delle alleanze europee, che noi riteniamo strategiche e penso che possano essere uno dei motivi di attuazione di questi accordi e pensiamo che l'università italo-francese possa lavorare in questo senso. Infine, mi premeva solo ricordare velocemente l'importanza che ha per noi non solo la Francia, ma tutto il mondo francofono, in particolare facciamo parte di questa, della rete dell'Agence Universitaire della Francofoni, che ha proprio, diciamo, individuato nell'università di Torino la rappresentanza nazionale, perché la francofonia, qua riporto, come le frasi del presidente Macron, noi l'università di Torino riteniamo strategiche per evitare queste relazioni anche col mondo francofono, che viene descritto appunto come luogo aperto, universale, luogo di eccellenza, in cui possiamo costruire, reinventare le sfide per i beni comuni. Questi quindi sono per noi i progetti diciamo importanti e pensiamo con cui si possa contribuire, rilanciare per l'attuazione di questo trattato del Quirinale, che è molto, anche secondo noi risulta molto importante. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie mille. Siamo arrivati a conclusione, rispettando anche dei tempi ragionevoli rispetto agli impegni di tutti. Vorrei un'ultima battuta, dare di nuovo la parola all'onorevole Alessandra Merdino, molti contenuti, molti gli stimoli a lei. Grazie, dottor Frigieri. Io davvero devo ringraziare perché quanto è stato detto è stato colto con lo spirito più aperto davvero a quelli che sono poi quelli che sono i rilievi più che altro, di chi vive in prima battuta le difficoltà che possono venire dal mondo della cultura che è appunto in questa fase di transizione. Prima sentivo parlare il dottor Brai della questione della verità e delle fake news, mi ha colpito molto perché, e lo dico da filologa, è un termine che io uso molto poco perché sono affezionata sempre alla ricerca del vero, del reale, dell'autentico, ci sono anche dei falsi d'autore, è sempre la cultura però che ci dà gli strumenti per poter comprendere la realtà e per riuscire ad elaborarla nel modo corretto. È questo che probabilmente va rimesso in piedi come meccanismo e quello per cui dobbiamo lavorare e soprattutto la lingua che è il nostro primo presidio, parlo proprio dei rispettivi paesi, ormai abbiamo delle giovani generazioni che tendono ad essere sempre più sintetici, sempre più telegrafici quasi, ad usare, a perdere l'uso di una capacità di verbalizzazione che invece ci ha portati dove siamo oggi, ci porta ad evolverci, a riuscire a confrontarci, ad evolverci. Però mi sento di aggiungere anche un altro passaggio, lo so che poi complichiamo se vogliamo il quadro. La lingua sì, ma che sia strumento di espressione di un pensiero, che oggi non può che essere complesso e penso in questo caso ad una delle sfide si è parlato di sfide comuni che ci aspettano, penso al congresso mondiale di filosofia che si terrà proprio qui a Roma nel 2024 e quello vedrà sì i nostri giovani a doversi confrontare, a non smettere di guardare al futuro in maniera davvero visionaria, perché è questo che dobbiamo cercare di di spingerli a fare, senza un pensiero articolato su quello che, su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri, a poco serviranno tutti i nostri sforzi. Ecco, mi sento semplicemente di fare questo tipo di riflessione e che la bussola strategica prima citata dal dottor Mustelli sia anche, come ho detto tempo fa, io ero presente a Parigi a febbraio quando si parlava poco prima dell'approvazione della bussola strategica, che sia anche una bussola umana, che metta al centro la la persona, perché appunto se disgiungiamo ogni volta i i vari settori, se parcializziamo i settori non non riusciremo ad andare avanti nella maniera giusta, ciò che rimane sempre collegato semplicemente a dei rapporti commerciali, non riesce a legare con un filo a doppia mandata dei rapporti e questo penso che valga non solo per i nostri rispettivi paesi, per l'Italia e per la Francia, ma ormai è un tema che è diventato globale. Si stanno ridefinendo, ridisegnando dei rapporti e penso sia ormai diventato imprescindibile andare oltre e superarci, pena non solo, mancheremo anche questa volta all'appuntamento per quanto riguarda l'Unione Europea, ma pena veramente non riuscire a guardare ad un futuro che ci veda riappacificati non solo nell'area mediterranea in cui siamo immersi come paese, ma insomma il quadro sarà davvero a tinte fosche, io sono però sempre una grande ottimista, quindi voglio lasciarvi con un ottimismo ringraziandovi per tutti questi stimoli e con la promessa davvero di rincontrarci per approfondire gli aspetti che con competenza avete enunciato e poterli, poterci riconfrontare magari per ritornare su questi temi. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie onorevole, grazie anche per appunto averci dedicato questo tempo in giorni che sono complicati sia sul fronte internazionale che sul fronte nazionale. ringrazio tutti i nostri relatori, grazie davvero, credo sia stato un dibattito molto interessante e approfondito, la sfida è quella di cogliere alcune delle tematiche, delle sollecitazioni che sono venute, poter andare avanti nella riflessione, nel confronto anche appunto con le istituzioni francesi e italiane e grazie a chi ci ha seguito, che si è collegato e buona giornata, buon pomeriggio a tutti, grazie ancora. Grazie mille. Grazie, merci. Grazie. Grazie.